Succedendo, yeee! Non so che cosa sta succedendo, veramente! C'è come no? Non so che cosa sta succedendo Cos'è il caso su YouTube mi ha fatto fare un video Non so perchè Vabbè, comunque lasciate like iscrivetevi al canale e attivate la campbellina per non perdere nessun mio fantastico video Ciao Sì, ciao, ciao Quasi c'è un teletrasporto Mi sono teletrasportato in cucina Questa non è la cucina Questa è la cucina Questa è la cucina Non posso farvi vedere mia nonna perchè Beh, e niente è in costumi Cioè Sì, l'avete vista, vabbè, ciao